Il bonus casalinga è una misura decisa dal governo che mette a disposizione corsi gratuiti di formazione professionale per acquisire nuove competenze. Il bonus si rivolge a coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in primis donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, iscritti all'assicurazione obbligatoria e e-mail. I corsi sono l'alfabetizzazione su informazioni e dati, la creazione di contenuti, la comunicazione e collaborazione, la sicurezza, i servizi al cittadino e la gestione domestica. Iscriviti al nostro canale